Ehi amici, oh è lunedì, chef in camicia, oggi vi propongo uno spaghettone con spada e mollica di pane aromatica Una vera goduria per il palato ragazzi, spadelliamo sto spada Facciamo tostare la mollica del pane, semi di sesamo, che doratura, top Risottiamo la pasta, facciamo uscire gli amidi e a fine cottura aggiungiamo lo spada e il battutino aromatico di prezzemolo basilico viola Che profumo, pane aromatico e ciao Che crema, una goduria estrema ragazzi, ma che vi devo dire Ciao Ciao